Ciao, benvenuti in questo video in cui mi farò vedere come salire sulla terrazza di hub Una cosa dovete venire qui, ecco io sono l'hub con la maglietta blu Qui ci sono dei puttini, dei disegnini, non so se li vedete, comunque ci sono Cliccate prima su questo qui, aspettate qualche secondo, ora cliccate qui Aspettate ancora un po', poi cliccate qui Ok, ecco si muove la telecamera, adesso clicchiamo qui Ecco, eccoci sulla terrazza di hub Qui potete sedervi e parlare Secondo me questo non è un bug, perché ci sono questi segnetti che indicano bene dove è la strada E per il più, sulle sedi si si può sedere Per oggi è tutto, ciao da AlexBestGTO